Ben tornati a J Magazine, nella versione di martedì 11 marzo parleremo di primarie, di politica, di primarie del centro-sinistra, sono state primarie particolari, si votava in Abruzzo per la candidatura alla presidenza della regione Abruzzo e anche in tre comuni come Mociano Sant'Angelo, Nereto e Montorio Alvomano. Si votava anche nelle Marche, si votava ad Ascoli Piceno nella città e si votava a Pesaro. Sono state primarie particolari, da una parte sono uscite delle conferme, dall'altra invece ci sono state anche delle novità. Ne parleremo, ne parleremo con gli ospiti. Oggi abbiamo il segretario provinciale del PD di Ascoli Piceno, Antimo Di Francesco. Buonasera. Salve. E accanto a noi abbiamo il collega Teramano, il segretario provinciale del PD di Teramo, Gabriele Minosse. Buonasera. E poi abbiamo il vincitore, il vincitore della tornata elettorale delle primarie a Mociano Sant'Angelo, il candidato sindaco ufficiale per il PD, Giuseppe Galiffi. Giuliano. Giuliano Galiffi, scusi. E poi abbiamo Micaela Girardi che è tornata a trovarci, l'ex esponente del PD e ora esponente di Green Italia. Aderente, aderente. Aderente a Green Italia. Poi ci spiegherai, insomma ne parleremo di questo nuovo movimento, possiamo definirlo movimento politico a tutti gli effetti. È un movimento politico con uno statuto innovativo, quindi possono aderire persone di tutte le opinioni politiche, anche iscritti ai partiti. Bene, poi domani so che c'è anche una presentazione ufficiale, poi avremo modo di parlare. Allora io comincerei con i due segretari che rappresentano la provincia di Ascoli, Piceno, la provincia di Teramo, perché vorrei subito delle loro valutazioni su queste primarie appena trascorse. Comincerei proprio con Ascoli, Piceno. Sì, è stata un'occasione di partecipazione democratica. Quando c'è il coinvolgimento e si dà centralità alla politica, io penso che sia un elemento che fa crescere un partito e che serve anche per confrontarsi con i cittadini, con il territorio, nella sua interezza, con i problemi. Credo che sia un'occasione che serva per costruire un progetto, per creare un terreno su cui lavorare insieme e per delineare anche uno scenario che possa essere nuovo rispetto a quello attuale, mi riferisco ad Ascoli. Io penso che si possa fare un buon lavoro. C'è stata un'azione in questi mesi di prossimità, di ascolto, di confronto, di molto capillare e io penso che dobbiamo ripartire da queste primarie. Un ringraziamento va ai candidati che si sono impegnati, sono state vinte da Giancarlo Luciani Castiglia. Un ringraziamento va ai volontari che hanno consentito e garantito questo importante appuntamento. Voglio ricordare che da ottobre il Partito Democratico svolge le primarie, quindi un percorso molto lungo, impegnativo e questo sta a significare che è un partito forte, strutturato, che riesce a garantire la partecipazione democratica. Questo è un fatto importante. Noi vogliamo ripartire da un progetto nuovo per costruire ad Ascoli il futuro di una città che oggi è stata amministrata male dalla giunta Castelli, che si è caratterizzata da un'inconsistenza programmatica e soprattutto non ha centrato gli obiettivi che dovevano essere raggiunti per dare una nuova impostazione alla città capoluogo che deve assolvere un ruolo di guida, che deve essere il traino per l'intera provincia e deve essere protagonista di un processo di crescita del territorio nel suo complesso. Quindi noi vogliamo dare un governo nuovo alla città di Ascoli, da parte del partito provinciale, di tutte le articolazioni ci sarà un'azione molto determinata per offrire un progetto di cambiamento alla città di Ascoli. Minosse, vorrei una tua valutazione per quanto concerne la provincia di Teramo, ma anche l'Abruzzo, considerato che si votava, come ricordato prima, anche per la candidatura alla presidenza della regione Abruzzo. Sì, diciamo così, come al solito il Partito Democratico utilizza lo strumento delle primarie per poter scegliere gli uomini migliori, la democrazia partecipata, diciamo così. Nel caso della regione Abruzzo è un po' che il nostro candidato del PD era stato indicato come Luciano D'Alfonso e poi si sono proposti gli ulteriori due candidati, sempre autorevoli, ed è stata una bella competizione, anche se, dobbiamo essere anche un pochettino sinceri, anche un po' fiacca, perché probabilmente l'esito... È nascontato, forse? Sì, probabilmente sì, probabilmente sì, anche perché Luciano D'Alfonso lavora da un po' di tempo, insomma, la sua candidatura regionale, quindi questo è. Invece, per quanto riguarda i comuni, abbiamo votato a Mociano, Nereto e Montorio, sono uscite veramente primarie bellissime. Io non me lo sarei mai aspettato, sinceramente, per la partecipazione così ampia, veramente, di cittadini. Io sono stato tutto il pomeriggio a Montorio, mi avevano chiesto di stare lì con loro e ho visto veramente file di persone mettersi in coda per poter votare il candidato sindaco. È stata una cosa bellissima, ma ritengo che a Mociano sia stata anche di più, perché, vista la partecipazione di Mociano, in una settimana a Nereto hanno organizzato le primarie, è stato veramente bello, è una partecipazione fantastica, ed è lo strumento che, secondo me, poi dopo fa partecipare anche un po' i cittadini a queste cose. Sono stati primarie bellissime. Quasi 600 a Nereto, considerato che 366 sono i voti che ha vinto Giuliano Di Flavio. Sì, ma organizzato veramente all'ultimo momento, quindi io ritengo... Sì, una settimana. Sì, veramente, quindi c'è stata proprio una partecipazione molto importante dei cittadini. Beh, però l'affluenza non è stata così alta, se poi prendiamo il dato... Beh, Teramo Città è un dato a parte, solo 300 votanti. Parliamo delle regionali? Parliamo delle regionali. Sulle regionali abbiamo, forse in provincia, un 10.500, però non è in calo rispetto alle precedenti primarie. Sì, appunto, dicevo prima, per le regionali c'è stato questo calo, perché, secondo me, c'è stata... La vittoria l'avevamo data per scontata, a mio giudizio. Non c'è stata, diciamoci anche la verità, una vera campagna per le primarie, neanche lo stesso candidato, manifesti non ne ha fatto. Io ho visto veramente, quasi alla chetichella, no? Ecco, magari è venuto a Teramo al mercato, pioveva pure, tra parenzi, un po' lui direttamente a distribuire i volantini. Non c'è stata questa invasione così come di solito si fa. Ed è anche per questo, insomma, secondo me che è stata un po' fiacca. Ed Alfonso ha detto che bisognerà lavorare anche su Teramo. Io andrei al candidato Giuliano Galiffi. Insomma, una vittoria che ti aspettavi? Non in bella misura sicuramente ci si puntava. Si pensava... Ma quello che ha sorpreso tutti è stata la grande partecipazione. Questo sicuramente è stato... Ricordiamole un po' di dati, 2.681 elettori. Sì, quasi 2.700 su 9.000 erotte abitanti, quindi quasi il 30% degli abitanti. Se consideriamo gli elettori, forse siamo vicini al 50% dell'elettorato, 45%. E questo, a differenza di quello che è successo per le regionali, se pensiamo che D'Alfonso ha preso qualche decina di migliaia di preferenze, in tutta l'Abruzzo che sono 300 comuni, io sono da solo a Mociano, un solo comune, ne ho preso più di mille, quindi diciamo che quello che conta è la vicinanza, l'importanza che i cittadini danno al comune. Il comune, in questo particolare momento di crisi, di sfiducia, di confronto della politica, dell'amministrazione, di crisi che è in gombe, di congiuntura economica, il comune è la prima parte delle istituzioni, ci si lamenta di tutto, ci si lamenta della politica, di quello che accade in regione, di quello che accade a livello parlamentare e di governo, però quello che accade in comune, mentre per il resto sono tutte parole al vento, per il comune si ha direttamente a che fare con l'interlocutore, il sindaco, l'amministratore comunale, sta sul fronte, sta in prima linea, il comune è il primo portone delle istituzioni, lì non si può scappare da inventare quale giustificazione e quale sotterfugio per evitare il contatto e quindi lo scambio continuo con i cittadini. E quindi naturalmente questa cosa ha fatto sì che la partecipazione è stata così forte, anche per il numero, soprattutto per il numero di tutti i partecipanti, che io ringrazio tutti in maniera particolare, che hanno contribuito alla riuscita di questa grandissima festa della democrazia, è un numero veramente eccezionale e di conseguenza questa competizione ha portato su il numero anche delle preferenze di tutti, quindi nessuno si aspettava di prendere tutte quelle preferenze, il numero della partecipazione ha contribuito in maniera determinante determinante a questo grande risultato. Quindi il merito è di tutti quelli che hanno partecipato come candidati, tutti coloro che sono venuti a votare, quindi un ringraziamento va a tutti, ma anche alla grande organizzazione che in silenzio ha lavorato, ha fatto riuscire perfettamente l'iniziativa senza intoppo, senza nessuna polemica. Gratuitamente. Tutto gratuitamente, sì. Quindi a Mociano nessuna polemica, invece andiamo un attimo ad Ascoli, vorrei anche un'analisi di Micaela Girardi, che non è più un esponente del Partito Democratico, è un ex EPD però che è uscita recentemente dalla corsa alle primarie, perché insomma tra l'altro non hai condiviso alcune scelte, l'allestimento di queste primarie diciamo. Sì, sono mutate purtroppo in un momento in cui non dovevano mutare e mi fa molto piacere sapere che in Abruzzo le cose, e soprattutto mi fa piacere la vostra iniziativa di mettere a confronto due province vicine, due terre che sono vicine sotto tanti punti di vista, che burocraticamente dal punto di vista amministrativo hanno un confine che le separa al di là di quella che invece è la vicinanza e la contiguità proprio naturale. E mi fa piacere anche sentire che a Mosciano sia stato recepito quello spirito di vicinanza quando i cittadini vengono chiamati a scegliere i candidati per le proprie amministrative. Purtroppo ad Ascoli, mi dispiace di sentire dall'analisi di Antimo Di Francesco, segretario provinciale del PD di Ascoli, il partito ha deluso moltissimo e non solo negli iscritti, quindi il partito si è indebolito moltissimo ad Ascoli, nel corso degli ultimi anni gli iscritti sono crollati, ad Ascoli città ci sono più iscritti all'Udc che non al PD, quindi dire che si possa pensare ad un partito forte non mi sembra un'analisi attuale. Riguardo poi all'affluenza alle primarie, dalle ultime primarie che erano del solo partito democratico in cui 4.745 persone sono andate a votare e in cui il terzo candidato perdente prese 800 voti, ora ci ritroviamo a avere avuto un'affluenza a primarie di coalizione, quindi con l'aggiunta di Selle del Partito Socialista, in cui sono andate a votare 1.600 persone e il candidato vincitore ha preso 670 voti circa, quindi naturalmente per questo tipo di selezione delle candidature la rilevanza politica sta nell'affluenza, quindi bisogna prendere atto che la città non ha sentito proprio quello che invece è lo spirito che a Mosciano, per come è stato descritto, si è sentito in maniera istintiva, quindi questo deve far riflettere che sì, Ascoli è una città di prevalente centrodestra, come da tradizione questo è noto politicamente, ma c'è una notevole componente comunque di elettori del centrosinistra che vorrebbero trovare una loro rappresentanza e un loro voto e che invece sono alle ultime politiche e hanno anche votato il Movimento 5 Stelle, non sono andate a votare e in questa tornata, in questa selezione delle candidature sono rimaste a casa, questo dato ci fa capire che 3100 persone di differenza non sono certo un dato che può essere considerato come disoddisfazione per nessuno, quindi da questo si deve ripartire, se si vuole essere vicini alla città. Certo, io direi che il raffronto dei dati tra Ascoli e Mosciano è inevitabile, 50 mila abitanti Ascoli Piceno, 1637 votanti, Mosciano Sant'Angelo 9.230 abitanti, 2681 elettori. Io riparto dal segretario provinciale di Ascoli Piceno, Antimo Di Francesco, per commentarlo. Io sono abituato per l'esperienza amministrativa che ho svolto fino al 2011 avendo fatto il consigliere comunale per 7 anni, il vice sindaco a San Metto per 5, che in politica gli obiettivi si raggiungano se si lavora nella consapevolezza che c'è un progetto che si porta avanti cercando di anche migliorare il percorso che si attua nel corso del tempo. Il calo, se si comparano anche altre realtà che vanno oltre la provincia di Ascoli è fisiologico, lo dicevo prima, c'è stato un lungo impegno da parte del partito sul versante delle primarie con le elezioni dei segretari di circolo, le elezioni del segretario provinciale, le elezioni del segretario nazionale, le elezioni del segretario regionale e poi le primarie. Noi dobbiamo ripartire e cogliere quelle che possono essere le opportunità che ci ha offerto oggi questo appuntamento. Certo, io non nascondo che ci saremmo aspettati una maggiore partecipazione, però voglio anche essere positivo e pensare che ci deve essere un punto di partenza e di ripartenza per il conseguimento degli obiettivi politici. Ad Ascoli noi dobbiamo offrire un progetto alternativo alla giunta Castelli che a mio avviso e a detta anche di molti che sono al di fuori del perimetro dell'elettorato del centro-sinistra non ha governato bene la città di Ascoli. Un'amministrazione che è rimasta immobile dinanzi ai tanti problemi che affliggono la città di Ascoli che è il capoluogo e quindi deve avere un'importanza e un valore maggiore e quindi un'attenzione da parte degli amministratori di una certa rilevanza per dare una maggiore consistenza anche programmatica a quelle che sono le cose da fare in una città in un territorio, ripeto, investito da una gravissima crisi economica e sociale. Quindi noi dobbiamo ripartire da ciò che non è stato possibile fare fino ad oggi attuando un'azione molto incisiva quindi ponendo al centro delle questioni importanti che vanno innanzitutto dal lavoro. Io ricordo che nel 2009 l'attuale sindaco declamò che ad Ascoli ci sarebbe stata un'azione finalizzata a fare in modo che ci potesse essere la zona franca il credito d'imposta, le agevolazioni finanziarie sono tutte parole che sono rimaste al vento che non si sono tradotte poi in fatti concreti ecco noi vogliamo ripartire dai fatti vogliamo dire alla città come stanno le cose in maniera molto chiara c'è una grande crisi che affligge il sistema economico, produttivo, occupazionale e quindi ripartire da alcuni progetti concreti e ridefinire anche un nuovo modello di sviluppo. Castiglia per tornare all'aspetto squisitamente politico è il miglior candidato possibile uscito da queste primarie o la dirigenza puntava in realtà su altro? No, le primarie sono uno strumento che serve per selezionare la classe dirigente quindi deve avere una duplice valenza da un lato coinvolgere e fare in modo che ci sia una partecipazione alle scelte che vengono effettuate dal partito e anche per poi poter selezionare coloro che andranno ad amministrare che avranno l'onere e l'onore di amministrare quindi io penso che il risultato abbia certificato che oggi c'è un vincitore Castiglia era un po' considerato, tra virgolette, leggendo anche certa stampa l'outsider rispetto a una Valentina Bellini anche Rita Forlini che poi in realtà faceva parte del Senn ricordiamo che erano primarie di coalizione di centrosinistra non del PD Lo scarto dei voti è stato minimo perché parliamo di 26 voti quindi oggi il candidato del centrosinistra è Castiglia noi convergeremo, quindi tutto il territorio si dovrà stringere attorno al candidato sindaco del centrosinistra io anche in altre occasioni ho ricordato anche le elezioni che si sono svolte nel 2011 a San Benedetto quando tutti i sindaci, tutti gli amministratori, tutti i segretari di circolo si strinsero attorno alla città di San Benedetto e fu proprio questo aspetto, questo metodo di lavoro a fare in modo che poi si potesse vincere le elezioni come poi si sono vinte a San Benedetto la stessa impostazione ci sarà per Ascoli con una maggiore attenzione, un maggior impegno perché è la città capoluogo quindi io credo che l'impegno deve andare in questa direzione partiremo fin da subito attraverso un lavoro capillare ieri abbiamo svolto la segreteria provinciale c'è stata una condivisione da parte di tutti i componenti della segreteria appunto per dare manforte a questo progetto di cambiamento e innovazione ne parleremo al prossimo giro poi avremo modo di parlare andiamo un attimo su terra quindi da Ascoli Piceno a terra abbiamo detto il dato in Abruzzo è stato diciamo comunque c'è stato l'effetto d'Alfonso quindi non c'è stata grandissima affluenza ma il dato eclatante di Teramo di Teramo città invece come lo commentiamo? cioè 310 votanti ma innanzitutto io ritengo che a Teramo vabbè stanno facendo i ragionamenti forse non è neanche troppo sentito perché ci sono le comunali sapete benissimo Teramo non c'erano le primarie in città esatto c'è il candidato sindaco già nella figura di Pasquale esatto quindi diciamo si è un po' tutti concentrati alla formazione delle liste insomma e quindi ci sono stati anche meno gazebo devo dire organizzati e poi ribadisco io sinceramente non l'abbiamo sentita così forte questa esigenza non abbiamo diciamo fatto le campagne elettorali noi siamo abituati a fare le belle campagne elettorali veramente a chiamare andare a trovare la gente questa volta non è stato così dobbiamo essere corretti perché è la verità ma perché si dava per scontato insomma questa questa vittoria di Luciano D'Alfonso insomma però il PD teramano c'è chi dice in crisi sciocchezze guarda io io faccio il segretario ormai da fine novembre dicembre io ho visto nella sezione di Teramo un bel movimento veramente tante persone che si mettono a disposizione vengono lì a lavorare ribadisco gratuitamente non è così è invece vivo visto i circoli si organizzano fanno riunioni anche con la candidata ma non la di Pasquale quindi non è assolutamente così si sta facendo un bel lavoro si stanno organizzando anche anche delle liste civiche di appoggio al sindaco quindi c'è un bel lavoro dietro non è così forse non si vede ancora probabilmente però è così ed è bello molto bello io da segretario devo riconoscere questo ogni volta che io vado lì ogni pomeriggio io trovo sempre qualcuno che è riunito o i circoli che sono cinque sono a Teramo si fanno i programmi si stanno organizzando quindi non è vero assolutamente che il PD a Teramo è così non è assolutamente vero questo io devo lo disconosco insomma non è così non è in crisi no assolutamente no e poi lo vedremo alle prossime elezioni a Teramo vince invece a livello provinciale è fantastico invece è fantastico abbiamo trovato abbiamo trovato la quadratura del cerchio anche per il candidato Vibratiano che è il è il sindaco uscente di Torano nuovo Dino Pepe parliamo delle regionali adesso esatto il candidato al consiglio regionale esatto sì esatto ma è come avevamo detto poi col ritiro di Francesco Mastromauro si è aperta si è aperta questa questa porta che voglio dire è una bellissima persona io ho sempre detto non certamente non potevo essere io di ostacolo a questo però la direzione aveva votato un metodo di scelta per i consigli regionali e quello abbiamo rispettato molto semplicemente quello che si dice bisogna farlo quello che si vota bisogna farlo altrimenti non siamo più credibili torniamo a Mociano onora Galiffi adesso le prospettive da questa da questa vittoria si avvicinano le amministrative ci sarà il ti dovrai dar da fare adesso sì noi io personalmente ho fatto una ipotesi di programma di punti programmatici e nella premessa di questi punti programmatici ho detto che bisogna innanzitutto confrontarsi affinché questa questa elencazione di punti diventa programma di tutta la coalizione ma confrontarsi non solo con i partiti e con i componenti della lista che faranno parte di quella di Mociano Democratica ma anche con le forze vive della società con le associazioni presenti nel territorio con i protagonisti delle attività economiche con i talenti con i professionisti locali che devono essere ascoltati per dare un contributo di idee perché chi ha in mano chi sente il polso della società deve dare penso che sia il momento di dare il proprio contributo e sia doveroso farlo e sia doveroso ascoltarli quindi è un dovere reciproco di chi ha buona volontà di chi vuole impegnarsi chi ha a cuore le sorti del proprio paese dove vive questo per spirito di senso civico perché il momento è sicuramente uno dei più difficili che siamo attraversanti c'è sfiducia nella politica nelle amministrazioni però bisogna ripartire bisogna ripartire avvicinandosi dimostrando alla collettività alla società che la politica deve stare vuole stare vicino ai problemi e vuole affrontarli nel miglior modo ascoltando e dando soluzione consigliandosi il primo passo è stato proprio quello delle primarie anziché decidere i sindaci nelle sedi di partito si sono decisi si stanno cominciando a decidere questo era nel DNA del nostro PD voluto da Veltrone quando è fondato di fare le primarie quindi di riavvicinarsi e far scegliere questo è il primo passo adesso bisogna continuare con il programma ma poi anche l'attuazione del programma quindi io una base di programma ce l'ho fondata sicuramente sui problemi più stringenti e l'occupazione del lavoro che vanno affrontati di petto senza mezzi temi ma su questi e altri voglio che ci sia un confronto e decisione ma è compatto questo PD così compatto questo PD a Mociano pensi che adesso non troverai non credo che ci siano altri problemi comunque affronteremo per dare soluzioni a nessuno potrà avere la decisione invallibile cerchiamo di confrontarci anche all'interno queste primarie insomma servono non sono un esercizio di abuso tra virgolette Micaela io continuo a pensare che per un grande partito siano uno strumento democratico di selezione delle candidature io ho trovato strumentale un cambio di regole in corsa nel caso che ha riguardato Ascoli e purtroppo io non trovo che politicamente il risultato sia stato brillante perché questa necessità di fare le primarie di coalizione l'avevamo chiarita e chiesta in tanti nell'autunno scorso novembre dicembre quindi dilatare e ritardare i tempi che purtroppo ha danneggiato la forza del centrosinistra complessivo quindi quelli che lo chiedevano come me lo vedevano perché persone anche più esperte di me di politica sanno bene che i tempi sono fondamentali quindi è un rammarico è un rammarico forte c'è stata una sconfitta della dirigenza del PD c'è chi ha la letta in questo modo vorrei che commentassi la cosa la capacità di mobilitazione in una città è quello che deve essere valutato quindi qui si trattava di due gruppi interni al partito che si fronteggiano da tempo che purtroppo continuano a spartirsi sempre meno iscritti e sempre meno elettori che però hanno alcuni ruoli chiave e quindi l'alleanza prevalente che si sapeva che comunque doveva in parte prevalere era quella che andava su Castiglia per delle alleanze politiche calate dall'alto che era il candidato Renziano Renziano appoggiato e votato dall'assessore Canziano quindi la Bellini era appoggiata dall'altro gruppo e quindi diciamo queste dinamiche però diventano di chiusura quando si comprende che crollano tutti gli interessi dei cittadini attorno a queste dinamiche che non sono più per la vicinanza ai deboli non sono più per il rilancio della città non sono più di opposizione incisiva perché Giancarlo Castiglia non lavora in città molte dinamiche non le conosce molti iscritti del partito non lo conoscevano quindi io temo che nell'ipotesi in cui Guido Castelli dovesse vincere la sua opposizione sarebbe davvero da sostenere tutta ancora da imparare a me sembra che lui stia affrontando ora dei temi per la prima volta e quindi la vera preoccupazione per la mia città e per il fatto che io non intendo arrendermi a queste dinamiche interne al partito quando c'è di mezzo come dicevano anche gli altri amici abruzzesi prima quando c'è di mezzo il rapporto il più immediato che si ha con le istituzioni e c'è quella del comune certo Francesco vorrei che hai voto di rispondere alla Girardi ovviamente non condivido le argomentazioni espresse in quest'ultimo intervento e anche nel precedente da Michi Girardi che lei sa quanto io la stimi per tutto il percorso che è stato fatto fino a fino a poco tempo fa perché io ritengo che Michi Girardi sia sia una risorsa del partito democratico abbia sempre lavorato ponendosi al servizio del partito e del territorio e noi abbiamo anche invitato a un ripensamento e quindi a rientrare e condividere il progetto del partito democratico poi ognuno fa le sue scelte politiche e se ne assume le responsabilità io credo che innanzitutto le partite si vincono oltre il novantesimo e quindi oggi fare analisi e ragionamenti precostituiti rispetto a una certa vittoria dell'attuale sindaco io non non li condivido perché penso che innanzitutto c'è la politica e la politica significa ridare slancio alla progettualità quindi noi ci dobbiamo confrontare sulla politica sulle risorse che abbiamo e io penso che le potenzialità del partito e mi riferisco alle personalità del partito sono sono importanti lavoreremo per per cercare di invertire la rotta su Ascoli è una una scommessa importante per per il partito provinciale per il partito di Ascoli per per tutto il territorio e e penso che dobbiamo essere consapevoli che ci attendono degli impegni da qui in avanti molto consistenti e noi vogliamo ecco ripartire dalla buona politica cercando di dare anche un segnale di innovazione nel modo di fare politica partiremo a breve anche con una campagna di ascolto e di confronto nei vari quartieri di Ascoli attraverso una 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 prossimità e quindi una un'azione di di contatto diretto con i cittadini e quindi lavoreremo cercando di ascoltare le esigenze i problemi le stanze che saranno avanzate dalla cittadinanza e sulla base di questo confronto costruiremo una proposta politica noi vogliamo aggregare il consenso intorno a una proposta politica credibile e di cambiamento ecco questa è la nostra stella polare non problemi nessun problema di correnti ma tu Gabriele Minos queste correnti adesso che senso ha puoi parlarne specialmente adesso penso che il premier è diventato stesso Matteo Renzi di queste correnti renziane non renziane però c'è ancora questo gioco all'interno del partito democratico sì sono sempre state io in una direzione l'ultima io ho stato molto chiaro queste cose almeno personalmente le sopporterò fino al 25 maggio mi sta bene adesso stiamo facendo il 26 maggio non esiste più noi voi o renziano cooperliano civatiano non esisterà più perché questo dovrà essere nel partito democratico io questo lo pretenderò l'ho già detto nella scorsa direzione e non si non si discuterà più ma noi ma qui ma lì o le cose si fanno insieme altrimenti il problema non si pone c'è una maggioranza e una minoranza all'interno del partito la maggioranza propone poi si vota se questo è perché la democrazia poi è bella anche per questo cioè voglio dire allora o le cose le facciamo tutti quanti insieme scordiamo ci dobbiamo scordare queste queste poi sono divisioni diciamolo no perché il confronto che non giovano tra l'altro al partito ma assolutamente io il confronto deve essere anche aspolo noi siamo un bel partito siamo plurale insomma ci chiamiamo partito democratico però io ritengo che noi le discussioni bisogna farle nelle sedi opportune io quando mi sono insediato ho detto secondo me è ora che la smettiamo che chiunque si alza la mattina chiama il giornalista e può dire quello che vuole non è così non è così il partito deve avere una linea ci deve essere quello che parla per il partito perché altrimenti è chiaro che se siamo in cento magari ci sono tre o quattro opinioni diverse ma questo è normale però se ne discute all'interno cosa vogliamo per la sanità cosa vogliamo per il lavoro cosa vogliamo il partito deve dire la sua ma deve essere unitario dopo un'ampia discussione a me sta bene questo quindi non può essere io sono renziano o non lo sono adesso basta Renzi è il nostro premier è il nostro segretario nazionale di tutti e lavoriamo tutti per convergere per lo stesso obiettivo questo deve essere altrimenti non ce la faremo però l'impressione che si è avuta in questi mesi che l'unica unità di intenti è stata attorno al candidato governatore cioè la figura di Luciano D'Alfonso almeno per quanto riguarda il PD Teramano se parliamo di unità di intenti solo nella figura di D'Alfonso non negli altri candidati no? sì però ci dobbiamo ricordare anche un po' la storia poi qualcuno diceva le vicende poi non compete alla politica io ritengo compete a qualcun altro poi verificare ma fino ad oggi il candidato il nostro candidato governatore mi pare di aver dimostrato ha dimostrato di essere libero da tutti i lacci e laccioli che ci sono io dico semplicemente questo che Luciano D'Alfonso noi ce lo dobbiamo anche ricordare quando ha fatto il sindaco di Pescara quando ha fatto il presidente insomma Luciano D'Alfonso ha veramente cambiato una città intera veramente è una persona che per salire dietro è un po' difficile idee innovative molto veloci cioè voglio dire anche anche nella burocrazia è uno che insomma tenta corre a fronte ai problemi non è la solita politica aspettiamo vediamo un po' quello che Renzi ha detto della politica nazionale quando i burocrati bloccano tutto io condivido quella roba lì cioè se noi non ripartiamo da questo e la politica non si riapprove del proprio ruolo cioè la politica decide dopodiché i tempi li detta la politica non li può dettare il dirigente il direttore cioè altrimenti qui è un paese bloccato questo è un paese per fare una cosa ci vogliono anni non è più possibile questo ci vuole decisionismo e quindi vanno modificati e io credo che Luciano D'Alfonso è una persona io lo conosco molto bene è una persona che decide se il dirigente non funziona il dirigente va a casa o si mette in un'altra poltroncina io ritengo che debba essere così non possiamo più sopportare questa perdita di tempo quindi ci vuole una persona che corre e Luciano D'Alfonso corre bisogna dargliene atto corre più di noi noi non riusciamo a stare dietro a Luciano D'Alfonso e questa è la verità vabbè su questo devo dire che me ne do atto anch'io Galiffio Luciano D'Alfonso corre l'unica unità di intenti raggiunta però a me sembra che sia attorno appunto alla sua figura vorrei che commentassi anche tu questo gioco di correnti che c'è ancora all'interno del Partito Democratico le correnti sono qualcosa da debellare nel Partito Democratico raffreddano le correnti sì io per quanto riguarda le elezioni provinciali alla segreteria non ho votato a Renzi l'ho votato poi quando si trattava di sceglierlo come segretario perché l'ho votato perché lui ha detto una cosa che mi ha convinto e ritengo che sia giusto come diceva il segretario provinciale lui ha detto che non ci sarebbero lasciate più correnti all'interno del Partito ecco io dopo l'esperienza che c'è stata negativissima l'anno scorso con l'elezione del Presidente della Repubblica che poi hanno portato alla dimissione del segretario Bersani dove le correnti hanno fatto di tutto e di più questa cosa veramente avvilente è una cosa che non può essere più non è più sopportabile quindi questo va sicuramente girato pagina e ricominciare da capo sulla base di idee innovative ma anche che diano risposte alle problemi che diano concretezza alla soluzione dei problemi non soltanto che siano soltanto idee fumose bisogna affrontare di petto veramente le situazioni che affliggono la società e su questa base fondare tutta un'azione politica e amministrativa sia a livello più alto che poi che man mano si ripercuota anche in beriferia per quanto riguarda la gestione dei piccoli enti come i comuni certo Girardi tu sei andata via per non vedere più questo gioco di correnti beh voglio dire il Partito Democratico riguarda comunque la società italiana e la politica italiana le mie opinioni comunque sono sempre di quell'area io spero che non non si moltiplichino le correnti dopo l'ennesima asserzione di no che di superamento questa è una bella sfida però non è tanto una questione nominalistica i problemi sono di chiudersi in se stessi ripiegarsi in gruppi di potere questo o si capisce che si deve superarlo su tanti ambiti perché poi alla fine si trova un blocco no nell'espressione politica sia nella maggioranza che nell'opposizione perché anche persone valide capaci sono frenate dal non poter dire alcune cose solo per il gruppo a cui fanno riferimento in un certo momento e quindi questo diventa un fare politica a corrente alternata un non fare emergere quello di cui invece c'è bisogno in una certa realtà penso alla Sanità Picena ad esempio che vede insomma delle notevoli criticità rispetto a quella regionale che avrebbe un gran bisogno di poter dire a chiare lettere come stanno le cose e Antimo sa che anche insomma in varie occasioni non ho fatto mancare di dire la mia opinione ad esempio il sindaco di Ascoli su questo è stato del tutto deludente aveva dalla sua anche il fatto che la regione è amministrata da una parte politica avversa quindi poteva farne anche una forte e decisa battaglia politica è stato inerte assente anche lui quindi tutto questo fa sì che se la politica riprende la piega giusta in modo naturale questo eccesso di chiusura in correnti o gruppi che si vogliano chiamare viene superato speriamo bene bene io devo andare in pubblicità però prima manderei un servizio un'intervista fatta proprio al candidato sindaco per il PD di Ascoli Piceno che è Castiglia perché è un'ampia intervista fatta dal collega di Ascoli Piceno Cristiano Pietropalo in cui espone anche parte del suo programma in cui critica anche il sindaco Guido Castelli e ripartiamo da quello per proprio tornare su Ascoli Piceno dopo la pubblicità adesso mandiamo il servizio su Castiglia Giancarlo Gianni Castiglia candidato della coalizione centrosinistra per le comunali qual è il suo punto principale della campagna elettorale insisteremo da subito sul discorso relativo al lavoro perché è un problema drammatico della città a cui non è stata data assolutamente nessuna risposta negli ultimi 5 anni ci accorgiamo solo ora che il sindaco Castelli si è accorto che il problema del lavoro è un problema per la città insomma non è stata fatta nessuna proposta non concreta in bilancio nel bilancio 2013 le risorse destinate allo sviluppo economico sono lo zero virgola delle spese complessive del bilancio comunale il che significa chiaramente un indirizzo politico assolutamente non conforme alle esigenze della città insisteremo sul lavoro in modo molto semplice come abbiamo detto più volte proporremo sicuramente di attuare di costituire il fondo di garanzia e co-garanzia per l'accesso al credito delle start-up in modo particolare rivolto soprattutto ai più giovani poi stabiliremo naturalmente un bando con tutte le caratteristiche questo sarà un primo tentativo per dare una risposta per recuperare quindi diciamo così l'offerta di lavoro che di fatto sta sfuggendo dal manifatturiero dalla chiusura delle aziende della nostra zona industriale ma il primo atto che faremo sicuramente sarà una asseverazione del bilancio cioè noi andremo a verificare con una società terza che le partite che siano scritte in bilancio non abbiano caratteristiche particolari insomma vorremmo chiarire di fronte ai cittadini ascolani che ci sia un'assoluta chiarezza nel bilancio di Ascoli perché non è chiaramente leggibile ci sono alcune cose che vanno interpretate alcune cose che vanno chiarite e penso che prima di andare a tentare di amministrare una città delle idee le abbiamo le abbiamo molto concrete sia importante capire una casa abitata per 15 anni da un'altra amministrazione che in condizioni sia stata lasciata e le accuse o le voci che si sentono nella città sul voto che alcuni esponenti del Centroresta hanno dato alla sua candidatura per farla prevalere ci può ecco replicare in questo senso? Sono stupidaggini allora tenga conto che ci si riferisce ad una persona specifica quindi una sola in relazione a tutti i voti che sono stati dati e se per una persona si generalizza dicendo che si tratta di un accordo che è stato fatto con il centrodestra per far candidare Luciani Castiglia piuttosto che un'altra veramente è un'accusa che non ha nessun fondamento mi dispiace che sia stata rivolta perché non sono state verificate bene le fonti e insomma non costituisce diciamo così un buon alibi per chi la sparse insomma Le divisioni interne poi al Partito Democratico che ci sono state nell'ultimo tempo ne pensa che si potranno ricompattare insomma il partito anche alla luce poi del suo risultato e per le elezioni imminenti ma guardi io le dico questo che durante quest'ultima settimana di campagna elettorale in occasioni pubbliche in cui credo eravate presenti anche voi ho amato ripetere che nel caso in cui diciamo con l'esito finale delle primarie il perdente avrebbe dovuto assicurare un'assoluta lealtà al vincitore delle primarie stesse l'ho detto io prima che si verificasse l'esito delle primarie quindi mi aspetto altrettanto da chi in questo momento le primarie non le ha vinte quindi ritengo e tra l'altro ho ricevuto l'assicurazione in tal senso che procederemo assieme con Valentina con Rita nell'attuazione rapida di un programma che in realtà sarà una implementazione dei punti che noi abbiamo già esposto per presentarci prima possibile alla città e preparare un'alternativa valida diciamo così all'amministrazione Castelli quindi unione di tutta la coalizione per vincere non solo l'idea è quella di andare oltre la coalizione per quanto possibile intanto certamente dovremo ripartire da questa coalizione che è quella che ci ha messo la faccia e che ha deciso con le primarie di scegliere un candidato leader diciamo della coalizione l'intento è sulla base di un programma condiviso molto forte di idee molto forti che risponde alle esigenze della città di coinvolgere naturalmente quelle aree che per adesso hanno deciso di non esserci ma che pensiamo di poter coinvolgere eccoci qui ben rientrati dopo la pubblicità allora abbiamo visto un'interessantissima intervista a Castiglia il candidato sindaco per il partito democratico per la coalizione di centro-sinistra le prossime amministrative di Ascoli Piceno ripartiamo dalla Girardi per un commento subito a caldo sì mi fa piacere vedere che rilascia interviste io non ho mai avuto occasione di partecipare a un confronto pubblico con lui mi auguro che possa capitare nell'interesse di tutti non solo con me tra l'altro per carità e che dire certo i temi del bilancio della città di Ascoli sono correlati con la gestione delle società partecipate quindi su questo è stata fatta un'opposizione molto approfondita dalla lista civica all'alveare nel corso degli anni anche nell'ultima consigliatura che purtroppo ha deciso di non ricandidarsi il tema è assai complesso io di mio posso dire che ho studiato il caso della cessione ad una banca d'affari di un palazzo ad Ascoli che si chiama Palazzo Sgariglia nel centro storico e quindi so che questo palazzo è stato ceduto ad un fondo immobiliare purtroppo non verrà fatto housing sociale così come dichiarato in bilancio è iscritta una quota di un valore di questa corrispondenza del valore del bene immobile che il comune ha perso di fatto quindi se penso a questo approfondimento che nessun consigliere comunale ha recepito che incide sul bilancio so bene che ci sono tante voci ulteriori da approfondire quella è stata una dismissione patrimoniale che appunto trova il beneficio solo nella banca d'affari romana che prende laute commissioni per la gestione di questa operazione complessa quindi per il resto non so spesso ho sentito alcune affermazioni da parte di Giancarlo Castiglia sulla necessità di un city manager non so se ha valutato i costi forse ecco una figura che come lui sui temi della città arriva ora immagino che ne avrebbe bisogno bene poi si è parlato anche di lavoro di start up di imprese di Francesco sì i temi trattati sono molto importanti parte integrante della nostra piattaforma programmatica dobbiamo ripartire dal lavoro in un'area che è oggi fortemente in crisi ripartire dal lavoro significa anche mettere sul tavolo dei temi concreti quindi dei progetti concreti io penso che noi dobbiamo lavorare ad esempio sui fondi europei 2014 2020 è una grande opportunità dobbiamo cogliere queste occasioni di rilancio del sistema economico produttivo ed occupazionale cercando di entrare nel merito di alcune misure e provvedimenti che possono sollevare la situazione sociale ed economica del territorio oltre a questo anche l'accordo di programma Valle del Tronto Val Vibrata e questo credo che sia un progetto che debba essere sostenuto in questa fase dobbiamo elaborare una progettazione condivisa c'è l'impegno da parte dei nostri rappresentanti istituzionali in Parlamento affinché si possa dare sostanziare quindi si possa dare manforte a questo progetto che lo dica in questo territorio è molto importante io ci credo molto perché è stato anche oggetto di confronto in varie occasioni di incontro quindi lavorare sui fondi europei 2014-2020 accordo di programma Valle del Tronto Val Vibrata e poi ridefinire un nuovo modello di sviluppo che va aggiornato e riqualificato perché non è più confacente a quella che è oggi la realtà e il contesto in cui ci troviamo e quindi ripartire da punti concreti anche l'aspetto che è stato evidenziato sulla trasparenza di bilancio quindi sulla certificazione del bilancio sul dare rilevanza a tutte le poste in bilancio e entrate in uscita sono un'occasione di trasparenza e di correttezza nei confronti della cittadinanza ripartire da questi punti credo che sia molto importante quindi il lavoro da fare credo che vada attuato in questa direzione e penso che poi ci sono anche altri argomenti che devono essere oggetto di approfondimento e mi riferisco alla sanità al sociale e quindi oggi i comuni sono il livello più vicino ai cittadini e quindi sono più vulnerabili anche perché non hanno le risorse per dare le risposte adeguate a questa situazione di grande difficoltà che vivono le famiglie cittadini e le imprese quindi noi dobbiamo cercare anche di attuare una serie di interventi ad alti livelli e mi riferisco ad esempio al patto di stabilità cioè allentare quei vincoli che oggi non consentono a un comune virtuoso di poter investire e di poter spendere le risorse che ha perché devono essere rispettati dei parametri economico-finanziari e quindi ecco su questi punti io credo che noi dobbiamo imbastire un'azione concreta e cercare una progettazione condivisa cioè un territorio in area vasta questo è l'obiettivo che noi ci dobbiamo prefiggere perché dobbiamo guardare anche oltre dobbiamo avere una visione un po' più ampia Minos ti ritrovi in queste parole raccordando Ascoli Piceno a Teramo quindi le problematiche in fondo sono le stesse lavoro imprese giovani appunto che in cerca di lavoro poi anche ha parlato del progetto del programma Valle del Tronto dell'accordo di programma ti ritrovi in tutto questo? assolutamente sì con un'unica postilla diciamo così che queste cose sono di competenza purtroppo non comunale io faccio anche il sindaco quindi insomma noi possiamo metterci molto poco del nostro io lo dico questo probabilmente loro vivono una realtà regionale completamente diversa perché la loro è amministrata al centro-sinistra e noi con la nostra regione per esempio io vi posso dire che un comune oggi per quanto riguarda il sociale che è la cosa oggi a mio giudizio per un comune più importante per le situazioni drammatiche che si vivono e che lo vive un amministratore locale lo vedrà lui quando farà il sindaco insomma io lo faccio io dico sinceramente che la mattina quando vado in comune mi sento già male dentro per le persone che ricevo che hanno problemi veramente di vita quotidiana e quindi nella nostra fattispecie diciamo così la regione Abruzzo che ne decanti tanto il sociale eccetera il welfare eccetera non è vero niente tutte sciocchezze perché i tagli per il sociale sono stati terribili negli ultimi anni terribili quindi sono di competenza anche a livello regionale io mi è piaciuto molto Luciano D'Alfonso quando comincia a pensare ecco anche a questa vallata no? voglio dire l'unità diciamo con le marche eccetera per lo sviluppo per provare a dare uno sviluppo su questi territori mi piace molto io devo dire ecco il segretario parlava di Ascoli nella fattispecie del comune io ho moltissimi dubbi per quanto riguarda le poste di bilancio io devo dire che da quest'anno in bilancio vanno tolti tutti i residui per legge tutti i residui vecchi e anche quelli diciamo che non si incasseranno o comunque si incasseranno fa tre anni per quest'anno i bilanci devono essere completamente modificati tant'è vero che c'è una grossissima preoccupazione almeno da parte del mio ragioniere insomma dello staff eccetera per quanto riguarda i bilanci quindi sta cambiando un po' tutto anche a livello di amministrazioni locali parlo dell'unione dei comuni parlo di una serie di cose che stanno modificando a livello governativo e i comuni hanno sempre meno potere noi siamo il front office come diceva il segretario per quanto riguarda come diceva anche il candidato di Mociano la gente la mattina si alza e va dal sindaco dal sindaco dall'amministratore locale e il sindaco si trova praticamente a non poter dare risposte questo è il dato di oggi è ovvio che ha cambiato la politica nazionale e mi sembra che il segnale ci sia e regionale speriamo che ci sia domani quantomeno nella regione Abruzzo Galiffi tu rischi di essere il front office il prossimo front office dovrai affrontare queste problematiche esposte da segretario provinciale da segretario provinciale Minosse che riguardano proprio le amministrazioni e quindi anche il bilancio sì bisogna partire nei problemi più scottanti perché poi man mano ci siano le soluzioni più necessarie più stringenti e a Mociano il problema del lavoro dell'occupazione è diventato abbastanza pesante comunque abbiamo delle risorse da rimettere da rivalutare da rimettere in campo abbiamo delle zone produttive al centro diciamo della provincia la viabilità nazionale le due autostrade la Terra la Quattorce quindi abbiamo una zona produttiva in un punto nevralgico a livello geografico diciamo quindi molto appetibile quelle che fino a qualche anno fa erano state dei punti dei veri formicai di produzione di lavoro adesso purtroppo sono semivuote però il nodo l'importanza del punto punto viaglio va rivalutato sicuramente e quindi perché possa continuare a dare sviluppo crescita e occupazione bisogna riconvertirli da solo quelle che sono zone produttive potrebbero diventare anche zone commerciali grazie anche alla nuova l'ultima legge regionale legge 49 che consentirà di fare anche commercio direzionale e quant'altro quindi bisogna attrarre nuove cercare di lavorare in questo senso per attrarre nuove attività magari premiando favorendo con delle agevolazioni gli insediamenti nuovi la ricerca del lavoro in tutte le direzioni per quanto riguarda i giovani nuove attività possibilità di finanziamenti per le nuove diciamo iniziative un aspetto importante da perseguire è quello del lavoro legato all'ambiente e all'energia quindi un lavoro da fare in questa direzione che può portare tanto anche un settore profondamente in crisi a livello nazionale è quello dell'edilizia ormai non ci sono più richieste di costruzioni quindi un settore allo sbando andrebbe anche lì riconvertito dal punto di vista energetico e ambientale per quanto riguarda gli adeguamenti potrebbe ricreare un indotto anche di lavoro per l'artigianato per gli invisi e quant'altro per gli isolamenti termici quindi un lavoro da incentivare da mettere in campo tante iniziative affinché si possa ricominciare a rigirare la macchina la ruota dell'economia e di conseguenza ci sia possibilità anche di spesa possibilità di dare risposte se ci sono entrate nelle famiglie ci sarà anche possibilità di pagare le bollette questi sono i problemi più stringenti e quindi lavorare su questi punti più di maggiore criticità e dare cominciare da una mano non è che si può con la bacchetta magica risolvere tutto il primo giorno lavoro e ambiente sicuramente da qui passiamo la palla da Girardi perché penso che sia d'accordo con questa riconversione delle imprese il lavoro legato all'ambiente e all'energia questo discorso fatto dal candidato sindaco Califfi sì assolutamente sì come dicevamo all'inizio in apertura diciamo che oramai questi temi stanno cominciando a diventare da un certo punto di vista e per fortuna patrimonio comune nel dibattito la scommessa è un'altra farne diventare progetti incisivi quindi che siano recepiti come azioni politiche attuative questa purtroppo è la delusione io ho aderito a questo nuovo movimento che si è costituito proprio pochi giorni fa il primo marzo a Roma dopo alcuni mesi di preparazione che si chiama Green Italia che è aperto all'adesione di persone di vari orientamenti politici anche vari iscritti a vari partiti possono aderire purché si riconoscano in questi temi tra l'altro fondato da un ex esponente tra i fondatori c'è il senatore Francesco Ferrante che è stato al 4-5 anni senatore del Partito Democratico insieme ad altri ma la cifra caratterizzante a questo punto secondo me è la credibilità nel portare avanti questi progetti perché io ora vedo che tutti come dicevo prima arrivano a promuoverli a pronunciarli però ci sono persone che da 20 anni ne hanno fatto motivo di studio di lavoro di approfondimento di documentazione in giro per il mondo quindi l'ambientalismo non conservatore ma propositivo a questo punto diventa la marcia in più che deve fare la differenza per riconvertire come diceva appunto prima il candidato sindaco di Mosciano che fa la differenza nei vari territori nei vari livelli per poter riconvertire l'economia ma anche le scelte urbanistiche di un comune quindi è necessario però essere competenti portatori di progetti mirati per le differenti realtà territoriali perché poi ogni territorio a distanza di pochi chilometri ha necessità molto diverse quindi prendiamo ad esempio la vallata del Tronto con tutte le imprese che sono anche in attesa di seguire un'indicazione di distretto una cultura di impresa che può essere rilanciata se riconvertita nel giusto modo e pensiamo poi a pochi chilometri di distanza il centro storico di Ascoli in cui il turismo da riconvertire la valorizzazione dei beni culturali l'ambiente ad Ascoli stesso i 27 ettari dell'area carbon che sono appunto in attesa di avere la giusta nuova destinazione urbanistica prima ancora la bonifica ambientale fatta nel giusto modo e quindi questo è un territorio che è molto circoscritto se vogliamo ma racchiude una serie di differenze che possono trovare nuovo ossigeno appunto per le famiglie e per le imprese se indirizzate nel giusto modo senza naturalmente illudersi che gli enti locali possano avere la bacchetta magica in tema di lavoro però la giusta indicazione la possono dare e soprattutto abbiamo visto che la si può dare in modo estremamente sbagliato Ascoli tuttora inondata di nuove costruzioni di nuova edilizia soprattutto ci sono parecchi progetti in attesa di essere attuati con vari provvedimenti urbanistici che ne propongono ancora di più per i prossimi anni quindi c'è una necessità di invertire un modello di città c'è una diversa idea di città che continua a essere proposta da un centrodestra che sta sbagliando proprio l'identità della città e del territorio e questo rischia di penalizzare la città e tutto il comprensorio certo Minosse però questo è un discorso che può essere applicato un po' ha parlato della vadata del trondo qua siamo nella valvibrata ma un po' a tutta la provincia di Teramo Sì ma io voglio ricordare però perché qui il problema secondo me è ancora a monte cioè qui bisogna rimettere in tasca dei cittadini un po' di soldini perché voglio ricordare le leggi perché ci sono per esempio per il risparmio energetico famoso 65% in 10 anni sull'IRPEF e il 50% sulle ristrutturazioni perché non si fanno non si fanno perché la gente non ha più soldi non c'è più lavoro questo è il dato quindi secondo me bisogna ripartire prima per poi arrivare a questo che è una cosa fantastica perché poi bisogna dire ripartire da mano purtroppo se oggi non mettiamo in tasca e agli imprenditori qualcosa perché io anche sul fatto delle imprese che poi dopo noi dobbiamo il comune cosa può fare può aggevolare un'impresa ma guardate che la TARES alle imprese ai capannoni guardate che è incredibile allora lì il comune può fare molto diciamo così per quanto riguarda perché gli imprenditori non ce la fanno più e se non ce la fanno gli imprenditori c'è poco lavoro licenziano quindi il problema qual è? il problema è agevolare queste cose ridare come adesso sta facendo il governo un po' di soldini in tasca ai dipendenti insomma per ai pensionati per cercare di rimettere in moto questa roba perché è il problema della fiducia cioè noi abbiamo perso fiducia qui anche se io ho un soldino da parte dico e devo rifare le finestre per il risparmio energetico non lo faccio ho paura che ne so domani per i figli che cosa succede cosa sta succedendo quindi bisogna riprendere un po' di fiducia riconquistarla dopodiché le leggi per poter utilizzare queste cose e far ripartire ci sono già alcune importanti probabilmente ce ne sono da frearte ma sul risparmio energetico sulle ristrutturazioni edilizie insomma ci sono delle bellissime cose però la gente anche se ha due soldi non li caccia perché non ha fiducia e comunque se rimettiamo qualcosa in tasca ai pensionati ai lavoratori forse riusciremo pian piano perché non è questione di sei mesi riusciremo a ripartire allora sì il comune può dare alcune agevolazioni come diceva come diceva Giuliano giustamente no? cioè a Mociano una realtà importantissima industriale artigianale importantissima è ovvio che adesso stanno chiudendo non ce la fanno più allora il comune può agevolare ma con con un aiuto veramente cioè un dipendente oggi costa 3-4 mila euro ma non è possibile voglio dire è necessario abbassare le tasse se io ho tanto lavoro va bene ok ma se il lavoro mi diminuisce ma io necessariamente dovrò fare l'altro ma Renzi riuscirà a farlo di Francesco? io penso che si stia andando verso la direzione giusta occorre molta concretezza e quindi noi dobbiamo dare un'impronta pragmatica al percorso che che dobbiamo fare e per quanto riguarda facendo riprendendo anche spunto da da alcune considerazioni che faceva il segretario di Teramo molto interessanti credo che questo territorio debba recuperare identità competitività e attrattività e questo sta a significare che occorre fare sistema coinvolgere tutte le componenti del territorio cercare di rivedere anche la politica industriale che è importante investire sul turismo sulla green e blue economy perché il nostro è un territorio che ha delle straordinarie risorse e capacità anche di attrarre segmenti di turismo importanti che possono risollevare l'economia e ridare slancio al sistema dell'occupazione ecco ripartire da alcuni temi concreti credo che certo la spinta importante da parte del governo nazionale è fondamentale affinché si possano creare le basi per costruire un progetto solido di rilancio altrimenti non riusciremo a diciamo ad alzare l'asticella della qualità ovvero a dare una prospettiva nuova a una realtà territoriale che oggi soffre e vive una condizione di estrema drammaticità per quanto riguarda il territorio ascolano la provincia di Ascoli noi abbiamo visto nel corso degli anni sparire delle industrie importanti che avevano usufruito delle agevolazioni finanziarie che hanno investito nel nostro territorio e poi hanno delocalizzato ecco noi dobbiamo ripartire dalla piccola impresa dalle piccole industrie che investano in un rapporto solidale con la nostra comunità e questo sta a significare che il compito delle istituzioni delle amministrazioni e quindi di tutte le varie realtà e componenti del sistema economico sociale istituzionale quindi devono convergere in questa direzione se vogliamo ridare una speranza e un futuro al territorio la politica deve decidere la politica deve assumersi le responsabilità di attuare un programma di interventi urgenti contingenti che vadano verso questo obiettivo ecco questo è l'impegno che noi dobbiamo assumerci con concretezza e senso di responsabilità Girardi l'essenziale sono i fatti perché le parole purtroppo sono oramai sviscerate bisogna passare ai fatti e si deve superare un certo immobilismo perché poi anche sulla questione dei fondi europei e delle varie iniziative ci sono dei territori che intercettano meglio quindi è necessario per tutti avere la fiducia mi è dispiaciuto che non abbia potuto sottoporsi all'elettorato doveva ecco doveva avere un passaggio elettorale prima di poter fare il presidente del consiglio adesso è indispensabile per l'Italia che si riescono a fare cose utili il cammino non è affatto semplice non è affatto semplice bisogna ripartire dall'abbassamento delle tasse quindi per le imprese quindi però c'è stato già ieri volevo farti commentare poi un piccolo passaggio che io considero personalmente a vuoto che è un po' quello sulle quote rosa allora quanto dobbiamo stare dietro alle leggi elettorali è sintomatico del decadimento italiano purtroppo l'appassionarsi io ho una formazione giuridica faccio l'avvocato di sistemi elettorali a confronto può essere una cosa molto interessante ma una volta che si sono stabilite alcune linee guida è drammatico che ancora siamo chiusi in questo detto questo come premessa c'è un imbuto per cui le donne non arrivano nei luoghi nelle decisioni ancora questo bisogna capirlo il modo migliore per superarlo è metterle in condizione di fare una formazione politica perché nessuno si improvvisa nei ruoli e quindi io devo dare atto al partito democratico che da quando è nato ne ha fatto di questo uno dei principi fondanti dopodiché nei vari sistemi elettorali si possono trovare varie soluzioni per consentire favorire una formazione politica e quindi una partecipazione alla competizione elettorale questo non può essere né una forzatura eccessiva quando alcuni in alcuni luoghi come ad esempio nei piccoli comuni ancora non ci sono donne che si propongano quindi può diventare un problema ma dall'altro lato però ci sono veramente degli ostacoli quindi proprio la Costituzione prevede che possano essere fatte delle azioni positive da parte dell'ordinamento per rimuovere questi ostacoli quindi ad esempio nei comuni si voterà questa volta con la possibilità di esprimere la doppia preferenza la seconda preferenza se si esprime se si esprime quindi non c'è nulla di obbligatorio è una proposta che è stata negli anni validata subito insomma vari controlli è totalmente compatibile con la Costituzione quindi c'è la libertà di poter esprimere la seconda preferenza se la si esprime di genere diverso questo in una regione è stato anche recepito quindi potrebbero ad esempio i consigli regionali recepirlo ma non mi sembra che ce ne sia la voglia neanche nelle marche almeno fino fino a poco fa queste sono cose che possono favorire ma naturalmente la cosa deve partire dal basso quindi il fatto che un partito preveda che nello statuto ci sia proprio la previsione che tutti gli organismi devono favorire questa partecipazione di genere in modo adeguato e paritario fa sì che cominci la formazione questo dovrebbe avvenire in tutti i gradi in tutti i livelli della società dei ruoli istituzionali il consiglio provinciale di Ascoli è fatto composto di soli uomini l'intero consiglio provinciale oltre che la giunta è un po' imbarazzante entrare quando sono tutti riuniti sembra perché stride con il resto della società in cui le donne effettivamente hanno dove possono un ruolo attivo presente però ci sono ostacoli familiari che purtroppo comportano un ridotto impegno per la conciliazione della vita con il lavoro della vita privata con il lavoro quindi in sintesi andrebbe regolarizzata il tutto secondo me ancora ad oggi c'è un momento in cui serve uno stimolo quindi qualche azione positiva che aiuta l'ingresso serve che serva per ristradare califfi su questa vicenda io sono d'accordo in quanto purtroppo questa carenza c'è di partecipazione femminile quindi anche di se vogliamo anche di rigetto da parte di una certa classe politica di più classi politiche di più classi dirigenti però bisogna fare in modo che ci siano dei correttivi legislativi in maniera che si diffonda una cultura cioè una cosa viene imposta diciamo così può essere brutto ma serve perché poi ci si abitui gli svizzeri faccio un esempio sono educati perché gli si invone se butti una cicca per terra ti portano dentro non ti fanno ripartire ti portano in commissariato e stai fermo lì quindi le regole sono necessarie le regole servono ad educare attare la cultura ma non avevo dubbi allora diciamo ai telespettatori questa domanda scaturisce da una discussione precedente prima della svizzera io non sono d'accordo di imporre queste cose per legge assolutamente e lo dice uno che ha l'aggiunta completamente al femminile io ho tre donne in giunta comprese il vice sindaco quindi non è voglio dire è un lare esempio in Italia certamente e quindi nessuno mi può dire non la penso così io l'opportunità la voglio dare assolutamente imposta per legge a me risulta essere riduttivo per una donna vuol dire non riuscite magari non cogliere il merito esatto io ritengo che ci siano tantissime donne veramente brave devono cominciare a sgomitare devono fare devono come dire è brutto dire non guadagnarsi cioè e anche quando hanno la strada sbarrata le donne sono molto brave a rompere poi dopo diciamo gli sbarramenti quindi non è vero che non lo fanno imporlo per legge a mio giudizio è un po' è un po' così è più difficile con le liste o è più semplice con le liste bloccate secondo quanto previsto guarda io non lo so guarda io ti dico semplicemente una cosa facciamo l'ipotesi regionale in regione Abruzzo tu sai benissimo stiamo lavorando o 4 donne e 3 uomini devono essere necessariamente o 4 uomini e 3 donne ebbene non ho tante richieste io di donne che si vogliono candidare allora è vero forse non le abbiamo fatto crescere è vero forse facciamo me a colpa per esempio io posso dire la mia lo voglio dire qui in questo territorio in questa televisione si vede qui per esempio io auspico che a Torano sia candidata una donna io auspico che sia Gemma Galiffa la candidata perché ha fatto l'amministratrice ha fatto anche il segretario del PD a Torano per esempio io auspicherei una cosa del genere mi piacerebbe una cosa nuova in un piccolo comune lo devo dire io anche dove sono andato ho visto voglio dire le partecipazioni io auspico che sia una donna perché il futuro in futuro forse potremmo anche scegliere tra donne che si sono impegnate che si sono distinte sul territorio è una notizia molto semplicemente no non è una notizia io auspico naturalmente vabbè però se è una candidatura mi piacerebbe ti piacerebbe va bene e Girardi prima di passare alla palla di Francesco volevi dire qualcosa purtroppo purtroppo non ci si rende conto che solo poche fortunate riescono a entrare in questi meccanismi fortunate per condizioni di famiglia di lavoro di situazione e quindi restano fuori moltissime altre e questo dovete comprendere che necessita quindi la giusta azione positiva che sblocchi questa chiusura le forzature eccessive no però adesso servono delle azioni positive quindi vanno scelte per le liste bloccate bastava semplicemente recepire l'alternanza e quindi non finiscono tutte in fondo alla lista le donne i meccanismi poi sono molto molto semplici se lo si vuole fare sono semplicissimi da recepire Francesco io condivido un aspetto che ritengo importante in questo processo anche di innovazione dalla politica c'è bisogno di di valorizzare di promuovere e di coinvolgere le donne perché sono importanti a far crescere il partito e soprattutto perché credo che si possa condividere un processo di crescita attraverso questa nuova impostazione e quindi ribadisco anche quello che è stato sottolineato da Renzi nelle dichiarazioni recenti cioè che il nostro partito su questo punto garantirà e ha già garantito questo diciamo riconoscimento e questa rappresentanza che non è mai venuta meno io se penso agli organismi dirigenti alle amministrazioni ad esempio del nostro territorio c'è una una larga partecipazione di presenze femminili e questo è importante perché è un elemento che qualifica un partito qualifica la politica stessa quindi c'è bisogno di donne va facilitato questo percorso se poi occorrono degli interventi legislativi che vanno in questa direzione penso che si debba discutere entrare nel merito delle questioni e anche apportare laddove è necessario dei diciamo dei correttivi che possano insomma andare in una direzione che è questa che ho evidenziato bene le regole ci vogliono certo le regole sono l'infrastruttura importante in qualsiasi organismo e associazione collettiva e quindi per quanto riguarda la forma partito le regole costituiscono le fondamenta con l'assenza delle regole viene meno la democrazia e soprattutto il confronto democratico e la crescita di un partito quindi le regole sono fondamentali bene direi che per oggi la puntata finisce qui io saluto i miei ospiti a cominciare da Antimo Di Francesco che è il segretario provinciale del partito democratico di Ascoli Piceno che spero tornerà a trovarci e poi saluto Gabriele Minossa il suo fianco segretario provinciale del partito democratico di Teramo e Giuliano Galiffi candidato sindaco del PD e forse futuro front office a Mociano Sant'Angelo futuro sindaco dovrà fronteggiare sicuramente grandi problemi grandi problemi Giuliano Galiffi si intrince e poi Michela Girardi esponente di questo nuovo rappresentante come possiamo definirti ho aderito ho aderito a titolo personale Green Italia domani lo presenteremo esatto ricordiamo questa cosa puoi ricordarlo anche tu che domani domani ad Ascoli saranno Francesco Ferrante e Roberto Della Seta e quindi sarà l'occasione per spiegare che cos'è Green Italia che cos'è Green Italia dove vuole andare Green Italia però non vi presentate alle amministrative ma intanto l'azione politica è insieme al movimento quindi sulle amministrative è un altro capitolo al momento non c'è nulla non c'è nulla quindi non c'è neanche magari una possibilità di riunione col Partito Democratico una coazione io ho scritto una lettera il segretario non mi ha risposto mi aveva invitato a partecipare a un incontro al quale non l'ho trovato ma ho trovato altri che non mi hanno trattato bene parli del segretario provinciale di Antimo non hai risposto ti ha scritto o non hai risposto una puntualizzazione è doverosa io ribadisco perché poi non dobbiamo insomma fare delle semplificazioni che non rendono poi i fatti per come si sono determinati io ribadisco l'invito a Michi Girardi come abbiamo fatto in occasione di una conferenza stampa ed è stato fatto dalla responsabile dell'organizzazione provinciale che noi abbiamo condiviso di rientrare e dare il suo contributo al partito e al progetto al progetto del partito democratico questo mi sento di dirle anche in questa occasione pubblica già che ti chiama Michi scusami abbiamo fatto sette anni di battaglia insieme quindi perché però le cose dette in pubblico e non dette in privato mi suonano un po' strane è una risorsa importante del partito quindi lo voglio ripadere ringraziare però ripeto le affermazioni pubbliche che poi non avvengono nei dialoghi privati quindi in pubblico tende la mano però non possiamo che costatare certamente è possibile nell'ottica del bene comune senza altro quindi vabbè insomma vedremo che succederà nelle prossime settimane quindi ringrazio Michela Girardi Giuliano Galiffi Gabriele Minosse e Antimo Di Francesco noi come G Magazine ci ritroveremo domani alla conduzione il collega Luca Zarroli a tutti una buona serata a tutti